Allora vi chiedo se nella realizzazione delle ricette, e per questa ricetta in particolare che ha vinto questo premio a livello nazionale, si parte dall'idea, parte dall'emozione che si vuole trasmettere o da che cosa? Inizialmente noi abbiamo realizzato questa ricetta soprattutto perché c'è stato un periodo in cui la nostra regione è stata colpita soprattutto dal terremoto e i prodotti che abbiamo utilizzato sono stati un rilancio economico per queste zone comunque, quindi abbiamo voluto soprattutto valorizzare questi elementi nella nostra ricetta. Inoltre abbiamo voluto valorizzare anche la semplicità perché abbiamo pensato che nelle zone terremotate non volevano più grandi particolari, cioè perché loro si basavano sulla semplicità e sulla speranza, quindi era un piatto semplicissimo, una mela lanciata su un piatto e con dei germogli di denticchia che stavano a significare proprio la speranza, quindi il messaggio del piatto era solo la speranza verso i paesi terremotati. Grazie.